in francia per esempio ancora adesso nella sala gudurie a parigi è appeso un editto del re luigi 13 che dice cosa si può fare cosa non si può fare nella sala di scherma mi piace a me piace solo un articolo io uso solo quello nella mia sala non si può parlare di religione di politica quindi io non parlerò oggi di religione e nemmeno di politica però oggi è sant'agata quindi auguri a tutti adesso non parleremo degli aspetti religiosi di sant'agata però a catania c'è una festa incredibile una festa che unisce tutta la città catania è la città dove sono nato e anche il maestro belasco flori è nato a catania è intitolato la sala di scherma qui di gorgonzola proprio a lui il motivo per cui l'ho intitolata lui e perché secondo me oltre aver scritto un trattato molto interessante ha dimostrato di avere delle idee molto attuali forse addirittura nemmeno così attuali adesso perché forse sono ancora più avanti di quello che siamo adesso vi leggo brevemente una piccola lettera che aveva scritto a un suo amico la donna è più focosa più leggera più svelta più agile più fecondo in invenzione che esigono prontezza di spirito e sa più che l'uomo improntare fingere modificare sentimenti passioni e pensieri effetti felici della sua raffinata sensibilità non ne sono infatti tante prove la leggerezza del vestire il calzare il camminare il danzare tutto ciò che esse fanno particolarmente in amore con più riuscita dell'uomo l'attuale nostro sistema di scherma è appoggiato alla leggerezza alla velocità alla sveltezza agli inganni alla prontezza delle invenzioni e delle risorse se ciò è vero si deve conchiudere che le donne sotto questi rapporti sono più suscettibili che l'uomo di apprendere di divenire abili nel maneggio della spada e che se non esistono schermitrici che rare si deve ciò alla tirannia dell'uomo che come tante altre cose si è riservata alla scherma di suo di dritto lasciando ad esse gli esercizi della debolezza e dell'ozio ecco io credo che se penso al fatto che fino a poco tempo fa le donne non potevano fare sciabbole spada poiché erano armi da duello e non di allenamento come il fioretto penso che non è che nel 1820 il maestro blasco florio fosse un progressista era un visionario forse proprio uno una persona che vedeva non al 48 oppure alla rivoluzione femminile ma vedeva ancora più avanti e questo è il mio pensiero io quindi ho intitolato volentieri la sala di scherma al maestro blasco florio perché mi sembrava veramente brillante e moderna ecco quelle che avete visto sono delle barbie le barbie sono cambiate avete visto delle barbie che possono diventare quello che vogliono non esiste un modello di barbie questa è una barbie vintage barbie questa barbie vintage è ispirata a lilly una bambola per adulti tedesca cose strane vero adesso le barbie sono un po più moderne sono tanto le forme sono cambiate sono più normali e anche se sono sempre magre però ce ne sono anche più cicciottelle ma quello che è cambiato veramente sono le storie cioè le bambine una volta avevano biancaneve poi biancaneve era vessata dalla madre dalla matrigna addirittura la matrigna la voleva uccidere i disegni sono bellissimi di questo cartonimato ben inteso però la storia non è più un esempio per le bambine e biancaneve era una brava ragazza che faceva le pulizie preparava da mangiare sette nani e poi una volta svenuta doveva aspettare che un principe la baciasse perché lo scopo della vita di biancaneve era quella di sposarsi cosa che non è assolutamente vera per Elsa Elsa è un idolo tra le bambine nessuno più si calcola tanto biancaneve poverina ma perché per fortuna le bambine sono cambiate Elsa non vuole sposarsi anzi litiga con la sorella che si innamora del principe Hans e in un giorno decide che vuole sposarlo perché anche Anna poverina c'è il mito di biancaneve cioè lo scopo di una donna è quello di trovare il vero amore e sposarsi non c'è altro e litigano le due bambine e questa è una cosa che a me piace molto anche perché poi Elsa fa la sua vita fa le sue decisioni tra l'altro Elsa è un personaggio veramente molto interessante perché ha tutte le debolezze le insicurezze di un adolescente un adolescente che però ha delle grosse potenzialità e questo è un bello aspetto il gelo il gelo che lei riesce a generare è letterale no nel senso che forma e sostanza coincidono perfettamente lo stesso gelo che sente ogni adolescente dentro quando sta crescendo però questo gelo le permette di capire le cose un po più profondamente come dire l'adolescente depresso è Elsa Elsa sì Elsa e quindi insomma adolescenti non vi abbattete senza avete grosse potenzialità c'è da preoccuparsi se un adolescente non va in depressione secondo me vuol dire che è insensibile Anna è brillante mi ricorda tanto Gioia Gioia e Anna sono praticamente lo stesso attore la stessa caratteristica e però anche Gioia nella sua storia in Inside Out anche questo è un cartone animato bellissimo e poi scientifico capisce che senza tristezza non si va da nessuna parte infatti poi le sfere cambiano colore e anche Anna lo capisce infatti anziché innamorarsi di un principe nobile si innamora di Christophe uno che dà da mangiare la carota a Sven la renna e poi la stessa carota se la mette in bocca un essere non è proprio un principe raffinato però è molto simpatica anche lui è molto saggio perché anche lui dice volevi sposarti uno appena conosciuto ma tu che cosa ne sai del vero amore io lo so perché lui c'ha gli amici trolls è chiaro è chiaro è chiaro comunque io volevo solo dire questo per fortuna le donne sono diverse si stanno prendendo consapevolezza delle proprie capacità e soprattutto sono fantastiche quando bisogna insegnare la scherma perché quando insegni scherma non devi più insegnare solo fioretto loro lo imparano benissimo il fioretto il fioretto è un'arma da femmina si diceva una volta anche perché lo potevano fare solo quello le donne no non potevano fare spade sciabola invece adesso possano fare tutto e lo fanno anche bene non hanno la forza fisica di un uomo ma hanno tutte quelle caratteristiche che ha elencato il maestro belasco florio e questo rende l'insegnamento alle donne molto più agevole ai maestri insomma insegnare una donna dà molta più soddisfazione vi saluto auguri a sant'agata auguri a tutti i catanesi e auguri a tutte le donne grazie a tutti